Salve amici ed amiche, benvenute su Rendezvous, l'appuntamento. Oggi siamo nello studio di un medico che si occupa di medicina estetica, un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi e che adesso andremo a scoprire insieme. Scopriamo quindi insieme il personaggio di oggi e benvenuti all'appuntamento. Andiamo, siamo qui con la dottoressa Vitali Diletta, medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica che da sempre si occupa anche di medicina estetica. Salve Diletta e benvenuta. Raccontaci del tuo percorso professionale. Ciao Barbara, grazie dell'invito. Allora, io mi sono laureata e ho fatto la specializzazione che dura cinque anni all'Università di Firenze e già durante la specializzazione ho cominciato a frequentare anche delle scuole di medicina estetica, io ho frequentato quella di Roma, però ho iniziato a fare anche altri corsi monotematici su degli argomenti specifici sia in Italia che all'estero. E poi il mio e il nostro percorso professionale non finisce mai perché purtroppo o per fortuna la medicina e la ricerca è sempre in continua evoluzione e sempre ci sono nuovi prodotti, nuovi macchinari e quindi è d'obbligo ogni anno frequentare corsi, congressi e corsi d'aggiornamento per mantenersi appunto sempre informata sulle ultime novità. Un approccio sempre nuovo ed in continua evoluzione. Come è cambiato infatti in questi ultimi anni l'approccio proprio alla medicina estetica? Allora, grazie al cielo le persone iniziano a pensare alla medicina estetica anche come prevenzione, non soltanto dell'invecchiamento ovviamente ma anche della salute perché una cute bella, sana e ben nutrita si difende anche in maniera migliore dai raggi solari e dagli agenti esterni che provocano per esempio il cancro della pelle. Quindi anche pazienti giovani si rivolgono alla medicina estetica per prevenire l'invecchiamento. In questo caso si parla di trattamenti biorivitalizzanti per mantenere la cute in salute e di conseguenza sana. In più, da parte nostra il nostro compito è quello di insegnare a pazienti che non bisogna andare a ricercare, a combattere la singola ruga o trattare la singola unità estetica ma il volto è fatto da più unità estetiche e quindi il nostro compito è quello di fare un'analisi estetica della paziente e consigliarli come intervenire per avere un viso della proprietà ma più piacevole, più giovane, più sano. Poi successivamente si può andare a fare le rifiniture e quindi andare anche a inseguire la singola ruga e fortunatamente questo le pazienti iniziano a capirlo. Tu parli di pazienti donne ma sempre più uomini si avvicinano alla medicina estetica. Quali sono i trattamenti più richiesti tra uomini e donne? Allora la percentuale dei miei pazienti che è quella comunque che riferiscono appunto dati internazionali si aggira intorno al 10-20 per cento del complesso di tutte le pazienti e le richieste degli uomini stanno sempre più aumentando. Il primo trattamento più richiesto è il trattamento con la tossina votulinica perché fortunatamente quando superano il tabù e le frasi fatte del fatto che sia una tossina e che quindi sia dannosa capiscono che invece il trattamento più innocuo più indolore che lascia meno segni e che dà comunque invece un aspetto sia uomini che donne soltanto più più fresco e più riposato. Quindi questo è il trattamento più più richiesto sia dagli uomini che dalle donne. Spesso è anche il primo che viene fatto. Poi interviene tutti i trattamenti con i filler il cui capostipite è l'acido ialuronico ma ce ne sono altri più di nicchie che vanno spiegati bene ai pazienti per fargli capire appunto le differenze e le peculiarità di questi nuovi di questi nuovi prodotti. Tu parli di tossina votulinica già il nome fa un po' paura. Vogliamo spiegare a casa davvero che cosa è questa questa sostanza? Allora tossina votulinica ha la sfortuna di chiamarsi tossina perché se si fosse chiamato siero mio rilassante forse tante persone non avrebbero questo terrore perché in realtà è quello che fa. La tossina votulinica è un farmaco come può essere un antibiotico con aspirina e qualsiasi altra cosa che agisce a diversità degli altri farmaci solo ed esclusivamente nei muscoli in cui viene iniettato quindi non ha effetti sistemici che vuol dire che non ha effetti né positivi né negativi nel resto del corpo. Mentre quando noi prendiamo un antibiotico sì ci curiamo le infezioni che abbiamo in atto ma possiamo avere dei problemi allo stomaco per esempio la tossina votulinica agisce soltanto nei muscoli nei quali viene iniettata. Quindi se iniettata nelle dosi giuste e nei punti giusti gli effetti collaterali quasi non esistono perché almeno che uno non abbia un'allergia all'albumina cioè all'albume dell'uovo che è un eccipiente di tutte le tossine votuliniche che ci sono in commercio attualmente non è praticamente riportata in letteratura allergie alla tossina votulinica. Quindi gli effetti collaterali e gli effetti brutti che si vedono in seguito a un trattamento di medicina estetica sono operatore dipendente cioè è il medico che ne inietta troppa o in dei muscoli sbagliati. È il motivo per il quale per fare tutti i trattamenti ma in maggior ragione la tossina votulinica bisogna conoscere benissimo l'anatomia del volto e non solo del volto. Infatti è proprio qui che volevo arrivare i prodotti quindi devono essere di buona qualità ovviamente e il professionista deve essere un vero professionista. Come si fa a riconoscere un medico che lavora in maniera impeccabile perché in giro si vedono tanti risultati terribili? Allora io chiaramente porto la mia bandiera ma nel senso che ovviamente uno specialista in chirurgia conosce inevitabilmente l'anatomia meglio di un medico di base, di un ginecologo, di uno che fa soltanto la medicina estetica perché chiaramente è il nostro pane quotidiano perché noi sull'anatomia del volto e non solo ci lavoriamo e quindi conosciamo che cosa c'è sotto la cute. Però questo non è detto che un medico che non abbia fatto questa specialità non abbia la possibilità comunque di studiarsi bene l'anatomia. Quindi questo è una cosa fondamentale. Poi ci vuole una certa manualità ovviamente perché lavoriamo con le mani e quindi la manualità ci vuole come in qualsiasi altro lavoro di artigianato. I prodotti. Di prodotti ne esistono tantissimi sul mercato. Purtroppo la medicina estetica è un business e quindi tante aziende si mettono a fare dei fiali di acido ialuronico. Io sinceramente da sempre anche quando ero una giovane dottoressa e non sono più ho sempre preferito comprare ad acquistare prodotti sicuramente più cari che però avessero dietro dei supporti scientifici e degli studi scientifici da parte dell'azienda che mi assicurassero al massimo la sicurezza e questo a maggior ragione lo utilizzo oggi perché non bisogna lesinare secondo me su questa cosa qua e di conseguenza se io ovviamente acquisto di prodotti più cari ovviamente il mio trattamento costerà al paziente di più che di un altro professionista che sceglie prodotti più scadenti perché costano meno. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa il paziente cosa può fare. Tutti noi oggi abbiamo su internet e sui social il nostro curriculum facciamo vedere dove andiamo cosa facciamo e quindi cerchiamo di far capire che siamo continuamente aggiornati sulle nuove sulle nuovi prodotti e sulle nuove tecnologie. Fondamentale non è obbligatorio ma è fondamentale secondo me cioè non è obbligatorio legalmente da parte nostra ma è fornire al paziente l'etichetta che identifica quella specifica fiala che viene utilizzata perché all'interno di quell'etichetta esiste oltre alla scadenza ovviamente esiste un numero di lotto che identifica quella specifica fiala perché qualora ci fosse qualsiasi effetto collaterale di qualsiasi tipo l'azienda ci può dare un supporto soltanto appunto se noi identifichiamo quell'otto particolare. Quindi è doveroso e i pazienti devono pretendere l'etichetta del prodotto dal medico che fa il trattamento. Quindi affidarsi sempre ad un medico competente, professionale. Parliamo anche di clienti però perché ci sono anche dei pazienti che chiedono l'impossibile. Qual è la richiesta più folle che hai dovuto supportare? Allora la richiesta più folle è ora fortunatamente succede meno ma qualche anno fa i pazienti arrivavano con la foto dell'attrice dicendo io vorrei essere così e io dicevo anche io vorrei essere così ma non è possibile. Cioè chiaramente agiamo e possiamo lavorare su quello che abbiamo cioè sulla struttura ossea di muscolatura che abbiamo. Quindi questa la considero una richiesta folle. Poi per me è folle anche chi mi chiede cose esagerate, quindi labbra esagerate, zigome esagerati. Io mi rifiuto sempre di farli perché non mi piacciono e non vorrei mai mandare in giro persone appunto gonfie in maniera esagerata e poi mandano a dire che sono venute da me. Però è pieno il mondo di pazienti che vogliono queste cose purtroppo e di medici che si prestano a farle e il mondo è bello perché è vario e uno può scegliere. Allora siamo qui tra poco vedremo dei nuovi trattamenti che vanno al di fuori di quelli standard su viso come le zampe di gallina o le labbra e si tratta di mani, collo, orecchie e braccia. Raccontaci dove si è spinta la chirurgia estetica e la medicina estetica su queste zone del corpo. Allora come dicevo c'è una grande ricerca scientifica quindi le aziende principali, le più importanti stanno creando e hanno creato degli filler cioè dei materiali di riempimento specifici per alcune zone del corpo. Cioè sono aziende che hanno creato filler specifici per il solco sotterbitario, altre per il corpo. E poi siamo noi professionisti che abbiamo imparato e cerchiamo di trasmettere alla paziente che non dobbiamo occuparsi solo del viso ma viene successivamente o anzi nella stessa identica momento il collo, il décolleté che purtroppo invecchia anche quello e poi dobbiamo dedicarsi anche a piccole zone tipo il lobo dell'orecchio perché è inutile avere un bel viso con degli orecchini meravigliosi quando il lobo dell'orecchio è avvizzito e perde la sua consistenza. Come le mani, si diceva anni fa che le mani tradivano l'età, oggi grazie al ceno possiamo far sì che l'età non sia tradita dall'aspetto delle mani perché si può intervenire nell'aspetto delle mani. E poi volevo dire un'altra cosa, perché si dice non chiedere l'età a una donna? Secondo me si deve chiedere, una deve essere soddisfatta e orgogliosa di dire la sua età perché invecchiare intanto vuol dire che siamo vivi, intanto cominciare e poi uno deve vivere la proprietà soltanto essendo una donna curata, un uomo piacevole con la proprietà. Quindi i trattamenti di medicina estetica non servono per togliere l'età, servono soltanto per migliorare quello che abbiamo ed avere un aspetto più curato e più piacevole, semplicemente questo. Quindi migliorare l'aspetto in generale, eppure esistono ancora molti tabù e pregiudizi. Perché secondo te? Perché purtroppo ancora in giro vediamo delle cose che secondo me non dovrebbero essere viste, appunto pazienti trattati troppo, in maniera sbagliata, con materiali sbagliati, in maniera eccessiva. Quindi è ovvio, tutte le persone che vengono qui per la prima volta mi dicono io non voglio le zigome come l'attrice tot, non voglio le labbra come l'altra, non voglio essere gonfia, non voglio essere stravolta e hanno ragione perché si vedono queste cose. E quindi i tabù sono questi. Io come tanti altri miei colleghi professiamo tutti i giorni la naturalezza, però finché ci sarà quel gusto estetico, perché io penso che questi fenomeni o queste donne uomini non naturali, a par mio, non belle ma anzi più brutti di quelli che erano prima, è perché loro hanno quel gusto estetico. Loro hanno quel gusto estetico e profondamente anche il medio ha quel gusto estetico perché io vedo tante mie colleghe che a me non piacciono. Bene, fermiamoci qui. Anzi, continuiamo. Adesso la dottoressa Vitali ci mostrerà su una paziente questi nuovi trattamenti a orecchie, mani, collo e braccia. Eccoci amici ed amiche, siamo qui con la signora Anna Lisa di 55 anni che non è mai ricorsa a nessun tipo di trattamento e infatti adesso la dottoressa Vitali ci mostrerà quali sono i trattamenti che la signora potrebbe essere utile fare. I trattamenti di cui parlavamo prima, collo, mani, orecchie. Allora, guardiamo partendo dall'alto verso il basso. Il lobo dell'orecchio è una zona a cui spesso e le pazienti non pensano ma a una signora di questa età e con un lobo un pochino morbido e un pochino cedevole potrebbe essere consigliato di fare un riempimento di questa zona qua con dell'acido ialuronico per renderlo più turgido. Il trattamento consiste in un'unica iniezione in questa zona qua e poi attraverso questo unico forellino si tratta tutta questa zona del lobo dell'orecchio. Il risultato è immediato, rimane una piccola goccia di sangue che dura qualche minuto e la signora può tornare ai suoi lavori immediatamente dopo il trattamento. Il collo è un'altra zona che può essere trattata per migliorare la texture della cute e renderla più compatta. Il collo si può trattare in due maniere o facendo dei ponfi di acido ialuronico cioè facendo più di un'iniezione in tutta l'area del collo di un acido ialuronico che idrata la pelle e la rende più compatta e più elastica oppure si può eseguire lo stesso trattamento con prodotti leggermente diversi attraverso una micro cannula cioè facendo soltanto una via di accesso da questa parte del collo e una dalla parte controlaterale con questa micro cannula che non ha la punta in cima a ventaglio può essere trattata tutta l'area del collo. Tutti i trattamenti del collo come tutti i trattamenti biorivitalizzanti vengono eseguiti una volta al mese per circa tre volte poi questi tre trattamenti normalmente vengono rieseguiti di nuovo dopo 6-7 mesi o comunque al bisogno. Il décolleté è un'altra zona a cui spesso le pazienti non pensano ma anche questa la classica V può essere trattata e migliorata in termini di consistenza e luminosità anche in questo caso si fanno tanti piccoli ponfetti di acido ialuronico da distribuire su tutta l'area del décolleté. Il solito trotocollo, tre trattamenti circa una volta al mese. Il dorso delle mani invece, ora in questo caso altrimenti non avrebbe tanto bisogno, può essere trattato per rinturgidire di nuovo il dorso delle mani quando appare un pochino più scheletrizzato, quando si vedono di più le vene e rendono la mano un pochino più vecchia. Anche la mano può essere trattata facendo microponfi su tutta la superficie del dorso in modo da distribuire l'acido ialuronico. Dopo averlo distribuito si esegue un massaggio per distribuire il prodotto su tutto il dorso oppure può essere fatto un unico accesso in questo punto qua e attraverso la micro cannula di cui parlavamo prima distribuire il prodotto lungo tutto, cioè su tutto il dorso della mano. I trattamenti della mano invece normalmente vengono fatti ogni sei mesi in base a quello che viene utilizzato e qui si può usare sia filler biorivitalizzanti, quindi che soltanto idratano la cute, oppure proprio filler veri e propri, cioè che vanno a riempire il dorso della mano. In questo caso appunto il trattamento viene fatto ogni sei, sette, otto mesi dipende da cosa esattamente utilizziamo e anche da come la paziente utilizza le sue mani, cioè in quanto tempo lo consuma. Queste sono tutte aree appunto un po' particolari che normalmente noi medici dobbiamo suggerire alla paziente. Altra area di cui parlavamo prima in maniera teorica, ne parliamo ancora adesso in maniera teorica è l'interno delle braccia. Spesso le pazienti soprattutto molto magre hanno l'interno delle braccia con una cute molto molto sottile, molto molto atrofica, che non ha niente a che vedere con l'attività fisica. Magari una può anche andare in palestra e avere dei muscoli super rappresentati, ma quando proprio il grasso sottocotaneo è poco poco rappresentato, è molto sottile, la pelle appare appunto un po' avvizzita e un pochino cedevole. Qui si possono trattare sia con acido aluronico che con altri prodotti un pochino più di nicchia, l'interno delle braccia. Le sedute non sono mai una, ma vengono ripetute nel corso dei mesi e servono proprio per ricompattare la pelle e renderla più tonica. Fino a qualche anno fa sulle braccia non si poteva fare assolutamente niente. Invece fortunatamente da qualche anno le aziende di cui parlavo prima hanno creato appunto dei prodotti specifici per il corpo, con il quale appunto viene trattato la regione interna delle braccia, a volte anche la regione superiore del ginocchio o la regione periombellicale, sempre nei casi in cui ci sia lassità cutanea. Quindi non si parla di cellulite, non si parla di grasso, ma proprio di l'assità cutanea, quando la cute è lassa, povera, distrofica e poco idratata. Quindi vedete come ogni paziente ha bisogno dei suoi tipi di trattamenti e quindi la prima visita è fondamentale proprio per identificare i suoi inestetismi e capire se si può fare qualche cosa e come si può fare. La prima visita a me richiede normalmente un'ora proprio per parlare di tutti questi dettagli. Una domanda, sono dolorosi questi trattamenti? Allora, il trattamento delle mani quasi per niente, perché in realtà lavoriamo su una zona che non è innervata più di tanto, quindi viene fatto un piccolo bolo di anestetico locale, quindi con una siringa o un ago molto molto sottile, viene fatto una goccia di anestetico locale in questa zona e poi da questa zona quando io inietto l'acido aluronico non si sente quasi assolutamente niente. Il lobo dell'orecchio nella stessa identica maniera, pensiamo che ci facciamo il buco all'orecchio in un secondo sentendo quasi niente, quindi è una zona molto poco innervata. Il collo è un pochino più innervato, quando utilizziamo la cannulina facciamo soltanto un buchino, quindi il fastidio insomma è soltanto di un piccolo foro, quindi non utilizzo mai creme anestetiche. Qualora invece si facciano tanti boli di acido aluronico sia sul collo che sul décolleté, faccio sempre mettere 30-40 minuti prima una crema anestetica topica che toglie il fastidio della piccola punturina del lago, ma non sono trattamenti di cui le pazienti si lamentano più di tanto sinceramente. Bene, amici ed amiche, rendezvous è terminato, ci vediamo nella prossima puntata, ringraziamo la dottoressa Vitali e la signora Annalisa.